bella molto piacevole molto bella molto bella parliamo di fundo e fasce in palissandro indiano abete sitka manico mogano tastiera ebano ponte ebano essenzialmente parliamo di costruzione con un occhio alla modernità a ciò che i chitarristi oggi chiedono e cosa si aspettano da uno strumento acustico professionale sarebbe interessante insomma sapere che ne pensa la community che ne pensate voi che ne pensate voi